Un domino da 25.000 pezzi, uno dei più grandi del mondo, realizzato da una ragazzina di 16 anni, Evesh Five. Il suo non è un hobby fino a se stesso, poiché quando il lavoro chiama, lei impegna la sua arte a scopi pubblicitari o benefici. Questo lavoro, che lascia veramente a bocca aperta, è stato progettato per promuovere una organizzazione no profit che raccoglie fondi da donare ad istituti pediatrici in Canada e contributi per finanziare progetti a favore della salute dei bambini.